Gianmarco, è un successo importante questo? Secondo te ha determinato più dagli episodi oppure dal gioco che avete espresso? È un successo importante sicuramente perché sapevamo che con questa vittoria tornavamo nei play-off e devo dire che siamo partiti bene, con belle trami di gioco e siamo passati in vantaggio meritatamente. Poi sono venuti avanti due volte e appunto per gli episodi ci siamo trovati sotto non si sa come. Poi questa squadra ha dimostrato comunque di reagire come sempre e siamo riusciti a portare a casa questa vittoria molto importante. La squadra secondo te oggi ha pagato però un po' le assenze, per cui quella di Kecchi in difesa? Ma no, non credo perché le assenze bene o male ci sono state in tutte le partite o gli infortuni e comunque le formazioni sono sempre cambiate, chi è sceso in campo comunque ha sempre dato il 100% ed è un po' di partite che portiamo a casa a punti, quindi secondo me va bene così. Cosa ci dici della festa finale, anche della vittoria dedicata a Ryan Bania? Un bel momento insomma. Beh sì, sicuramente un bel momento perché ci tenevamo a portare a casa questa vittoria soprattutto per lui e per questo grave infortunio al ginocchio che ha avuto e poi oltretutto non vincevamo in casa da due mesi quindi era doppiamente importante oggi. L'obiettivo ora diventano i playoff? Beh ovviamente ci siamo dentro, mancano sette partite credo e è importante andare in campo alle prossime per portare a casa più punti possibile e cercare di restarci.